nuova escursione nuovo giorno oggi sabato abbiamo abbiamo parcheggiato sabato 1 ottobre abbiamo parcheggiato nella val brenta per andare a madonna di campiglio andiamo a fare la ferrata sossat passando da rifugio tuket passando dalle cascate di Vallesinella adesso siamo arrivati al rifugio Casinei direzione tuket ah sì volevo dirvi una cosa che prima di andare a fare la ferrata abbiamo trovato questo bellissimo locale invernale diciamo che è un bivacco questa è chiusa vabbè qua cosa abbiamo qua abbiamo una camera qua abbiamo quattro posti letto c'è ancora ragazzi gli altri due e altri due posti letto tutto in legno ok non c'è riscaldamento ma è bellissimo molto bello ma non c'è il nore no c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, là abbiamo il rifugio Berentei che poi andremo a vedere perché ho sempre voluto vederlo, mentre là sopra che non si vede molto adesso, se sto in qua, là sopra abbiamo il rifugio più alto del Prenta. Ah, li monta? Sì, la signorina li monta, adesso vediamo se andiamo su oppure no. Altro pezzettino, ultimo pezzettino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.